ciao ragazzi sono pietro e ben ritornati in questo nuovo video come potete vedere oggi c'è una puntata dello speciale calcio mercato di pietro perché speciale perché ve lo sto registrando di sera come ai vecchi tempi ma anche perché ci sono state delle notizie a bombe che non si è capito praticamente quasi niente che io mi sono dimenticato di dirvi sia settimana questa sia della scorsa settimana quindi devo in qualche modo dire è scusate vabbè comunque prima che vado alla sigla dello speciale iscrivetevi al canale attivate la campanella se volete un altro episodio ma soprattutto lasciate like per supportarmi e lasciate un bel commento qui sotto e niente vabbè quindi adesso sigla il che ciò mercato di pietro speciale allora partiamo dal fatto che partiamo con dei tradimenti dove non c'è capito assolutamente niente lucaco juve e lucaco ma non finisco su striscia lucaco juve e quadrado inter io raga da juventino posso capire gli interisti per la prima volta per la prima volta in che senso per quadra vabbè buonanotte scusate per lucaco alla juve io ce lo vedevo bene quindi non mi dispiace ma su quello che non mi aspettavo era quadrado all'inter cioè dopo otto anni di juve proprio a quella rivale doveva andare potevo capire la roma la lazio il milan ma il linter oppure tipo il napoli eia anzi pure il milan non potevo capire le uniche che potevo capire sono quelle di roma roma e lazio e scusa perché non sono rivali della juve quindi e niente poi raga posso capire gli interisti dicevo perché perché così come io sono soddisfatto di lucaco loro non se l'aspettavano da lucaco ma credo neanche da quadrado perché senza niente senza nulla quadrado ha scelto la sua destinazione e io non preferivo proprio così cioè voglio dire sono rimasto scioccato poi per quanto riguarda sempre la juve voi oggi c'è stata la conferenza stampa di giuntoli stavo per dire giuntoli mannaggia e ho letto un gioco questa settimana è la scorsa scusate che la juve vuole prendere frank che si ho letto possibile prestito mamma non ricordo bene ma voi secondo voi sarebbe un bel acquisto che si rispondete mi raccomando nei commenti secondo me sì perché è forte ecco poi per quanto riguarda il calcio mercato l'inter ve l'ho detto l'inter è decisa pure su morata ecco perché non si capisce più niente nel calcio mercato c'è adesso morata vogliono quattro club questo giocatore milan roma juve suo ritorno anche se io non lo preferisco è inter ma perché perché alvaro potevi accettare quella della roma no è no per forza quello nero azzurro ma su dai noi mo rimaniamo con 0 quelli dell'inter e loro quattro e che hanno marotta l'altro la che non mi ricordo come si chiama l'altro dirigente poi avranno quadrato e morata ma su dai ma la la e noi che abbiamo tolto fuori rosa bonucci comunque per quanto riguarda il calcio mercato del monza è successo di tutto carboni gagliardini cioè hanno preso gli hanno presi entrambi dall'inter è ufficiale il monza è il nuovo inter sensi carboni gagliardini è ufficiale cioè scusate ma hanno giocato nell'inter scusa ma poi raga vi voglio dire che il sassuolo dal niente acquista cranio in prestito dal monza e mulattieri dall'inter perché il prossimo non l'ha riscattato ma l'inter credo che abbia effettuato il contro riscatto e niente ma le sorprese non sono finite qui perché pulisi ci sarà un nuovo giocatore del milan così come reinders che ha fatto le visite emettiche ha scelto la numero 14 castellano se non sbaglio sarà un nuovo giocatore della lazio e poi e poi vabbè di cae a war saranno della roma questi ve l'avevo già detto ma dovete sapere che non so se ve l'ho detto ma no ve l'ho detto che fra tesi sarà un nuovo giocatore dell'inter in prestito con diritto di riscatto ah già ormai è quasi confermato che artur andrà alla fiorentina poi rano è ufficiale già filippo non andrà che quello si è ritirato ranocchia andrà al all empoli in prestito dalla giuve con diritto di riscatto e contro riscatto ma perché hanno messo il contro riscatto che caspita ce ne dobbiamo fare di un bidone io non lo so vabbò e niente poi per il frosinone acquista arroi se non arroi quello l'ex del ormai ex del sassuolo e marchizza un altro ex del sassuolo chissà quanti ce ne suolo vabbè e niente a raga a proposito nel calcio mercato di serie b franco vasquez ha firmato quella con una squadra italiana retrocessa se avete capito bene sto parlando della cremonese se franco vasquez ha firmato un contratto se non sbaglio annuale con opzione di rinnovo con la cremonese e quindi con continuerà a giocare in serie b intanto il genoa si prende aaron martin e nicola le ali dall'ascoli da svincolato ma quelli sono dettagli e niente poi ecco raga oggi è arrivato l'ufficialità che augello lascia la samp e sarà un nuovo giocatore dal cagliari quindi rimarrà in serie a per fortuna e gli acto torna finalmente in serie a indovinate doveva a cagliari cioè delle squadre che stanno andando bene raga costano il calcio nel calcio mercato tutti dicono milan milan ed è vero però monza acquistato il carboni e gagliardini senza nessuna notizia ma no quello però voglio dire ecco poi il sassuolo che ha dato zero ma dico zero notizie e il cagliari che è come il sassuolo anche se questo dava notizie se non sbaglio infatti oggi è arrivata l'ufficialità poi niente raga queste erano le notizie di mercato a lo sanno poi potrebbe lasciare il napoli e andare alla squadra di giorgio chiellini e potrebbe diventare il messicano più pagato di sempre vabbè comunque niente quindi raga questi queste erano le notizie di calcio mercato e se volete un altro episodio non speciale però tipo se io vole ve lo riporto giovedì sempre se lasciate molti like iscrivetevi al canale attivate la campanella e quello che ho detto prima lasciate like e scrivete tanti commentini belli in i vidlini e quindi dal vostro pietro schett dal vostro pietro detto pietro schett è tutto ciao